Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti di opinione di Lox, il canale per i veri malati di sport. Per il nostro angolo NBA, la partita della quale vi parlo oggi è Denver contro Boston, ovvero una sfida che potrebbe essere una finale di playoff, una sfida tra le due squadre migliori a est e a ovest. Ha vinto Denver, ha vinto per 123 a 111, ha vinto molto bene, ha vinto con chiarezza, non avendo mai sostanzialmente la partita in discussione. Boston è stato in vantaggio di 3 punti solo nei primi minuti della gara, Denver ha avuto un massimo vantaggio di 18 punti, la gara è proceduta abbastanza strappi con Denver che ha preso il largo soprattutto nel secondo quarto, Boston è riuscita a riavvicinarsi fino a 6 punti di scarto, ma Denver ha sempre trovato le soluzioni giuste. Mi ha anche ben impressionato, devo dire, la squadra del Colorado, al di là di Djokic che è stato ancora dominante, con una tripla doppia, 30 punti, 12 rimbalzi, 12 assist e una facilità di gioco assoluta, però Denver ha avuto anche il supporto che ha giocato bene nonostante l'assenza di Murray, ha tirato molto bene la squadra del Colorado con un 57%, soprattutto 17 su 30, il 57 da 3 molto precisa, ha messo molte triple soprattutto nel terzo quarto nel quale ha chiuso di fatto sostanzialmente la partita dal punto di vista del dubbio di chi l'avrebbe vinto. Boston invece sinceramente non mi ha molto impressionato, soprattutto nel corso del primo tempo, nel quale ha forzato continuamente conclusioni da 3 punti, da un certo punto di vista è l'immagine di questa NBA moderna, dove si forza, si cerca, si cerca, si cerca sempre e solo di tirare a 3 punti. Nonostante Boston abbia segnato in area 60 punti contro i 46 di Denver e quando poi ha cercato di avvicinarsi un pochino più al ferro, credo abbia fatto molto meglio che non questo assurdo primo tempo dove ha sparacchiato da tutte le parti. Alla fine però, nonostante la sensazione che avevo durante la gara di una pioggia veramente di triple, statisticamente alla fine 9 su 33, quindi ne ha prese solo 3 in più degli avversari, tirando però con un 27% veramente negativo. Detto di questo dominante Jokic, che è stato assolutamente strepitoso, 30 punti, 12 rimbalzi, 12 assist, ma la semplicità, il guardare da una parte e passare la palla dall'altra, i rimbalzi, il gioco rallentato con cui però riesce a segnare e a subire fallo, la precisione della lunetta, la precisione del tiro da 3, veramente facendo sembrare tutto estremamente semplice e facendo sembrare tutto estremamente dominante. Però buoni anche, come detto, gli altri giocatori di Denver, nei quali mi è piaciuto molto Island, soprattutto questo giocatore che sicuramente porta una confusione assoluta in mezzo al campo, tante volte porta la palla, lui blocca il gioco, blocca le soluzioni alternative a quella della sua possibilità di essere lui a realizzare, a concludere, però ha fatto molto bene, 19 minuti, 17 punti, 7 su 12, credo sia stato uno dei giocatori chiave, insieme poi alle triple messe, come dicevamo soprattutto nel terzo quarto, Brown 4 su 6 da 3, Porter 2 su 3 da 3, che sono stati molto precisi, hanno dato una mano a sviluppare il gioco e ad aiutare il lavoro che stava facendo Jokic. Da notare anche Brown e Cianciar, che mi sono molto piaciuti, quindi anche Cianciar soprattutto l'ho trovato, un giocatore che già nell'abito FIBA, diciamo, mi aveva sempre colpito molto, l'ho trovato anche molto efficace, molto concreto qui nell'NBA. Denver mi ha ben impressionato, mi sembra una squadra, considerando anche appunto che non era completo, sicuramente da mettere una candidatura per avere un risultato importante della stagione. Non so se sia già completa per vincere il titolo, però che bisognerà vederla poi comunque anche in un basket un pochino più concreto da un punto di vista difensivo, perché la gara è stata comunque una gara di regular season, c'è stato qualche momento di buona difesa, qualche pallone recuperato, però ci sono state tante azioni anche che si sono confuse troppo facilmente con l'uno contro uno, nel quale con un paio di passaggi si è sempre trovato il giocatore libero agli angoli. Non c'è stata proprio l'intensità complessiva che mi aspetto da una gara di alto livello, di una gara di playoff, però Denver è una squadra da mettere sicuramente sul tacuino. Per quanto riguarda Boston, come detto, mi è piaciuta pochino, Jalen Brown, 30 punti, 12 su 20 è stato il migliore, soprattutto in apertura di gara, quando ha segnato i suoi primi 4 punti, i suoi primi 4 canessi consecutivi, è nato in doppia cifra in 3-4 minuti di gioco, e poi invece Tatum, che ha giocato bene, è molto bravo a portarsi a casa i falli, però non ha trovato, un ammeno in questo caso, una prestazione così di leadership per lui, nonostante 25 punti e 7 su 16 al tiro. Per Smart, 2 su 12 al tiro, uno degli elementi negativi, hanno fatto un po' fatica a tenere, a difendere contro Jokic sotto canestro, nonostante, appunto, come abbiamo detto prima, in attacco nell'area pitturata, sono riusciti a segnare con piuttosto regolarità. Molta attenzione ai passi, tante violazioni di passi fischiate, di passi fischiate soprattutto a Boston, ma almeno in un paio di occasioni, Boston ha perso 3 o 4 palloni consecutivi, compresi anche blocchi irregolari, nel secondo quarto, proprio nel momento in cui Denver ha creato il largo, quello che è stato poi alla fine il gap decisivo. Partita interessante, bella vittoria di Denver, fatemi sapere ragazzi la vostra opinione, Walter soprattutto, tifoso Boston, se ti è piaciuta la prestazione dei ragazzi e se ti aspettavi una gara di questo genere e quali sono in generale le aspettative per questi Boston per il resto della stagione, con l'NBA e l'appuntamento, se riesco, butto dentro un Denver, una New York Phoenix che si gioca oggi, poi una trasferta nei prossimi giorni e quindi non credo di riuscire a coprire gare per un paio di giornate, però vediamo, insomma, tutto quello che riesco a fare lo butto dentro. Grazie ragazzi, attendi i vostri commenti, iscrivetevi al canale, grazie di tutto come sempre, un bacione, alla prossima e ciao a tutti da LOX, ciao!